Expo Torre 2010, siamo in compagnia del signor Martino dell'azienda Pneumatex, un'azienda che si occupa della gestione dei circuiti idronici. Di che cosa si tratta? In poche parole la gestione dei circuiti idronici è l'autostrada per l'acqua che gira nei tubi. Questo consiste a rispettare la fisica dell'acqua e i diversi concatenamenti dell'impiantistica. Oggigiorno purtroppo vengono impiegati dal caldaio a condensazione, ma mai nessuno si occupa del circuito. Il circuito è la cosa principale per poter portare il fluido all'utenza. E purtroppo si spendono migliaia e migliaia di euro per le caldaie altamente sofisticate, per le pompe sofisticate, ma mai nessuno si occupa del circuito. E purtroppo i circuiti vengono infangati, vengono intasati di melma, gas e aria. Faccio un esempio un po' stupido, è come avere una Ferrari e non poter girare sull'autostrada, si gira sullo sterrato. E la stessa cosa si ha nell'impiantistica. Abbiamo gli impianti con delle aperchiature sofisticatissime, ma nessuno si preoccupa del circuito idronico. Perfetto, grazie di queste informazioni innovative. Grazie, buongiorno. Grazie. Arrivederci, buongiorno. Grazie. 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 Grazie.